Una vicenda incredibile quella che ha per protagonisti padre e figlio Padovani. I due hanno tentato di pagare i danni di un incidente stradale proponendo alcune dosi di marijuana. Qualche giorno fa infatti il ragazzo di 21 anni ha tamponato l'auto di un coetaneo di origine romena per pagare i danni provocati sul suggerimento del padre non ha fatto la constatazione amichevole. Padre e figlio hanno detto così allo straniero che lo avrebbero pagato subito per evitare beghe burocratiche. Qui viene il bello. I due consegnano 150 euro in contanti e una dose di marijuana. Sbalordito il ragazzo romeno allerta i carabinieri e racconta la vicenda incredibile. Appurata la veridicità del racconto i carabinieri perquisiscono la casa dei due trovando altri 20 grammi di marijuana sequestrata alla droga denunciati padre e figlio.